Zlatan senza rancore volevo solo dirti che ti abbiamo svincolato cosa hai detto a massimo è Zlatan che svincola Manchester prendi questo e anche tu Zlatan è molto arrabbiato ma non preoccupare per me io creerò nuova squadra che si chiamerà AS Rame sarà formata da 15 giocatori che pagheranno Zlatan per giocare con Zlatan o se no avevo pensato anche a quest'altra formazione Zlatan in porta Zlatan in difesa Zlatan a centrocampo Zlatan in attacco Presidente Zlatan Mister Zlatan porta borracce Zlatan magazziniare Zlatan Zlatan ha deciso di smettere di giocare a calcio quando calcio finirà per sempre dopodiché diventerà campione de golf non provo nessun rancore per Manchester spero solo che falliscano continuerò a giocare perché come dice il proverbio de Zlatan chiusa una porta Zlatan la apre e poi ruba dentro appartamento belli chicchi se ancora non lo fate seguitemi sul mio profilo Instagram momoddcp e se il video vi è piaciuto lasciate un like condividete e iscrivetevi al canale se vediamo al prossimo video belli chicchi